E quanto son grossi sti cosi! Ok, non era una critica, non era body shaming. Nah, è una cavolata di sicuro. Quindi, se faccio così... Che succede? No, 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 no! No, 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 no! Wow! Whee! Eh, ma che ero planino di merda! Oh, porca miseria! Non è che mi manco coinvolto... Guardalo! Ma sei la cosa più bella della vita! Signori, è con grandissimo piacere che vi do il bentornati nel fantastico mondo di I Expect You To Die. Negli scorsi giorni è uscito il terzo capitolo Voi non avete idea da quanto io lo attendessi Sul canale abbiamo portato i primi due Questo fantastico mondo pieno zeppo di enigmi e spie Mi ha sempre divertito tantissimo Allora sto provando una nuova versione Del programma di registrazione in VR La vostra immagine dovrebbe essere effettivamente più stabile Rispetto a tutti i traumi del passato Anche l'audio dovrebbe essere un attimino più Diciamo stabile Sto facendo delle prove figlioli potrebbe accadere letteralmente di tutto Allora ci aspetta il tutorial Se non avete visto i giochi precedenti Tranquilli perché vi farò io un riassunto Delle puntate precedenti Allora fatemi leggere praticamente tutto Al prossimo agente il punto di controllo Badadag è stato evacuato in seguito Alla demolizione della vicina base di Zor Da parte dell'agente Phoenix Sono io l'agente Phoenix Per mettersi in contatto con l'agenzia e ripristinare l'alimentazione Seguire il protocollo indicato in questo nastro Ok quindi siamo in un'altra base Se vi ricordate nel secondo gioco Noi eravamo nello spazio stavamo cercando di fermare Un gigantesco laserone Del Sior Zorg Anzi il dottor Zorg Il cattivone che ancora non l'abbiamo mai visto effettivamente E a quanto pare noi siamo morti No siamo ancora vivi solo che nessuno lo sa Allora inseriamo la cassettina Perfetto Ci saranno dei sottotitoli Cercherò di leggerli perché sono un po' in movimento purtroppo Allora raddrizza l'antenna della radio Ok perfetto Poi sintonizza il tutto Non è che si senta più di tanto Ah agenzia scusate Perfetto quindi devo andare su 631 Ok Nella radio Ah ok allora 1 4 e 6 A posto Yay Che sta succedendo? Ok Spero che si legano tutti i sottotitoli figlioli Purtroppo Allora vi ricordo che io ho la tele cinesi Quindi posso afferrare gli oggetti dalla distanza E posso anche bloccarli in aria Sì sì Arrivo arrivo Porti pazienza un attimo Olle Che piacere essere ritornati in BR Perfetto Apriti sesamo Sì ma porti pazienza Che non ho mangiato nulla Da quando ho giocato l'ultima volta nel 2021 Ok questo ha visto decisamente giorni migliori Oh mio dio Vabbè Guardate ragazzi Quando ci avete fame Ci avete fame Anche stracocchi Va bene così e tanti saluti Allora il mio passaporto diplomatico Lo mettiamo qui Il mio caro buon vecchio auricolare Lo mettiamo di qua E Ok Perfetto Risigillato E lo reinseriamo Direttamente là dentro A posto Sono io fidatevi Sono l'agente Phoenix Non lavoro per il nemico Giuro Ho salvato il pianeta Terra Nei capitoli precedenti E direi che è arrivata la risposta Lo vedo Va bene tranquillo Gianfrancesco Ci penso io Apriti sesamo Oh finalmente l'auricolare Vai Supervisore che piacere di vederla Anzi risentirla E abbiamo anche i sottotitoli signore Te la prego non si sbarassi di me Ok Sono in Romania Come ci sono arrivato No no è a posto È a posto E quello che ti credo Ho appena fatto Ma vabbè dettagli Ah questa Allora Accettate che c'è tutto il tutorial Ecco qui Batti che faccio così E la blocco là Uuuu Perfetto Ah ma quindi Non sono l'unico Va bene Dov'è? Wow E neanche mia Io non ho toccato niente Ok 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 Ecco qua Ottimo Si sono saltati un po' di cavi in effetti Ci dovrebbe essere un soldatore in quella desca Se non C'è qualcuno Ha messo Ehm Tranquillo Penso mi Ehm Capo Ho trovato una leva Teniamola qua in caso di necessità Vabbè I controlli li conosco più o meno Aha Ho trovato Lo stagnatore Usa il dispositivo Per soldare le soldi E ci sarà il posto In nessun tempo E Voilà A posto a posto Ormai sono esperto Ok Olè Come nuovo Mi pare un'ottima idea Ok Quindi li dobbiamo solamente trovare Aspetta aspetta che c'è anche il giornale Cronaca mondiale Chi è Zor Leader dell'industria Zoraxix Ormai caduto in disgrazia Con un patrimonio miliardario Ed una vita riservatissima L'impresa di Zor Si ramificava nelle attività più disparate Dalla produzione alimentare Alla costruzione di armi Ma noi lo abbiamo fermato Un sacco di volte Ehm Buongiorno Questa dove va Non mi sembra che vada là Perché non combacia Forse La devo tipo inserire laggiù Haha Ok Attivalo a distanza Aspettate che Va a posto Oh oh Sta ripartendo tutto Se tocca già la musichetta Sì E' un progetto Yeah Va inserito là dentro Probabilmente ce l'ho davanti agli occhi E non me ne sono neanche accorto Che stupido Possiamo sollevare questa Aha Oh 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 Aspetta aspetta E Spadonchete Ok Forse voi non lo vedrete Ma ho tipo il cappello Sopra Sopra la mia testa E' troppo bello in VR No vi giuro Io il VR Ci farei tipo tutto Anche le cosacce Ci farei in VR Ma insomma Ci hanno capito Gira 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 Posto Yeah Signori Yeah Perfetto Signore Sono pronto a ripartire Oh oh Aspettate C'è il titolo C'è il titolo Dove ho messo i popcorn Mi servono i popcorn Parapapam Pam 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 Tretti poi avrei visto il trailer 826 volte Mentre aspettavo L'uscita del gioco Perché l'avrò messo sul Sul sito principale Ok Questa è un'esperienza Che ti godi solo in VR Voglio essere onesto Se non avete provato il VR Non vi rendete conto E nessuno? Oh Sì ma sei calmo? Ah Salve Ne possiamo parlare Non sono qua per l'orgia Scusate Oh Salve signora No more accepting Just good enough I have a world to make Unbreakable Rose to break Loseroni I'll build a dance On the queen You're just a cog And the machine Bam 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 E quanto sono grossi Sti cosi Ok Non era una critica Non era body shaming Non metta Aia I'm less than impressed I've been better than you I've made you Oh Oh Fa strano in VR Aspetta E che copio Non faccio folia Non faccio folia Non faccio folie Ah 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 Ok Non era il mio pipino Almeno Aspetta Quello è il cotto Qui in testa Bellissimo Sto affetto Apriti Sedomo Unbreakable Rules to break I'll build a castle On the queen You're just a cog And my machine Babababam Babababam Whee Oh oh Abbiamo un problema Qualcuno chiami un idraulico Presto Oh oh Capo nulla io No breaking down No giving up No more accepting Just gonna know I have a world to make Unbreakable rules to break I'll be the cancel Signora salve Oh oh Cosa è il mio picio Oh Cristoforo Colombo Certe cose funzionano solo in VR Vuol dire praticamente L'ingranaggio della macchina Ok E ho tasto una bella ripulita Finalmente signori Direi anche finalmente Vorrei fare almeno le prime due missioni Se possibile Apriti Ok Fatemi dare una che ti è in giro Allora Natti tutto una riordinata Perché sennò qua Aspetta che sto Sto urtando cose nella vita Vera C'è qualcosa di nuovo? Qui ci andranno degli oggetti speciali Probabilmente Sembra Ti prego dimmi che abbiamo un panino normale Oh mio dio Oh wow Sei il tramezzino più bello Che io abbia mai visto in tutta la mia vita Ma sei fantastico E gustoso E scusate ma io voglio anche Bermi una bella bibitotta Com'è che si apre scusate Wow 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 Ok 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 Non tocco nulla Non tocco nulla E si è scassata lì mentre Mentre scendeva Ma fai via Cosa satanica A posto Lasciamola lì Mi è passata la voglia di bere Il mio caro bombacchia accendino Con cui posso bruciare eventualmente i documenti Ok ok Come sapete molto bene Mano a mano che andiamo avanti con le missioni Completiamo obiettivi secondari Questa stanza si riempirà di oggetti Come non ci fosse un domani Oh wow Cosa ho toccato? Ah Ho trovato un paio di guanti Oh mio dio Ci sono diverse tipologie di guanti Ma va E gli altri presumo che li troveremo Mano a mano che andiamo avanti Ok una cosa per volta Abbiamo La chiave Della casa Della dottoressa Prism Direi che è la signora Che abbiamo visto Un attimino incazzata Nel trailer lì Mi pare una buona idea Quello che è nella mia testa Ah è quello che mi perte di fare Uuuuh California California Here we come Ovviamente gli obiettivi secondari Non saranno visibili Fintanto che non abbiamo Completato normalmente La missione iniziale E ci sono sempre degli oggetti Nascosti Sei dei quali Probabilmente Andranno qua Pertanto possiamo dedurre Che ci saranno sei livelli Ovvero sei missioni Ok Torniamo sul campo Oh mio dio Dopo due anni Ho paura Oh wow Bel posticino Oh oh Porca la miseria Ma che boia di casa Si ritrova la tizia Posso servirmi da bere No davvero Una casa meravigliosa Oh posso veramente Servirmi da bere Scusate Posso avere quel meraviglioso Bicchiere Va che spettacolo No vabbè Tienilo da parte Si sa mai Oh e questo cosa fa Un salve Cos'ho trovato È l'oggetto nascosto L'ho trovato fin dall'inizio Ehm Ok Questo ce lo riportiamo Indietro appena possibile Il mio fedele accendino Potrebbe sempre tornare utile E Registrazioni audio Allora se ti nascondi Qua dietro la roba Perché sono fra un decennio Siamo ancora qui Pian pianino Dobbiamo riordinare Tutti i nostri oggetti Allora vediamo un po' Il tuo nuovo camminetto automatico Flamebuster 5000 Telecomando incluso Flamebuster ti dà il benvenuto Nel futuro della Comodità casalinga Attenzione Massimo due ciocchi alla volta E in effetti Là ce ne sono tre Grazie Questa è un'informazione Molto utile Qui cosa abbiamo Appunti importanti Inchiostro nero Della penna Quasi finito Va bene E questo è il tercoma Non era quello che volevo fare Ma lo accetto molto passivamente Cerchiamo come ho detto Di familiarizzare con Tutti i vari oggetti Quindi è così Accendo il Ah Aspetta forse dobbiamo Metterci prima la legna Vediamo un po' Vai dentro uno Ok per adesso mettiamo le due Non vorrei esplodere Perché in sto gioco Si muore parecchie volte Oh Ok Direi che ha funzionato Abbiamo anche le ricette Incendiario Neuro Servire a temperatura ambiente Vodka Crenno Ok forse devo mettermi A mixare tutti sti cosi In qualche modo Memoria primaria Oh Oh Ci sto capendo nulla Il gioco ti riempie di informazioni Fin dall'inizio E sta a te Capire in tempo Peraltro Come sfruttarle Quindi fammi capire bene Posso tipo fare così Oh E poi lo posso mixare Vediamo un po' Aspetta Vai 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 Posso avere E vai ma è pochissimo Vabbè Ragazzi meglio che nulla Questo passa Il convento E tanti saluti Ok Non facciamo minchiate Lonino Telecomando Devo chiamare il robot Spavento Salve Maggiordobot Tu devi essere un buon agente Io sono Robotler Quindi chiamate se hai bisogno Ok Non chiamate Spero qui Ok Ah Però non mi fido minimamente di te La chiamata proposta Riempire gli agenti Con i robot Hanno anni E' sembra che Ha trovato altri usi Ma questo robot Non sembra troppo preoccupato Con il suo creatore E' stato messo Hmm Continuiamo Ok Continuiamo con la missione Robocoso Portami da mangiare E' spero di essere freddo Hold on Posso fare questo Un'ottima cosa Ok Non ho mai trattato Il robot di Dr. Prism Ma Il sembra di essere Un ottimo Sì Per adesso Oddio Ok Metti questo E' ok Se non ti piace Guarda Tu Usa la telekinesis Se il Dr. P E' qui Mi credo E' abbia molto Eccitato Con il tuo kinesium In tua head Oh Piano 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 Non so Se fidarmi Onestamente Come ho detto Tu eri nel film Il fatto iniziale Quindi lavori per lei Questo è avvelenato Ve lo garantisco Quindi Lo lasciamo qua Per adesso Però il gamberetto Almeno il gamberettino Lo posso prendere Io adoro i gamberetti Ma no Ma no Ma no Nel microonde Dai Ma sei un criminale Ma che cocchio Allora Mentre mi giravo Ho notato Che laggiù C'è un'ulteriore Bottiglia Neurotonica Inerte Quindi adesso Abbiamo anche La terza bottiglia Posso prepararti Letteralmente Di tutto Ciccio Ti posso offrire qualcosa Uh C'hai una chiave Lì Scusa Me la presti Un attimino Wey Ah che rompipalle Che sei Ah ok Dobbiamo fregargliela In qualche modo Aspetta un attimo C'è una strana Bottiglia qua Eureka Inchiostro invisibile Cielo L'hai trovato Per farlo riapparire Una parte acquatonica Due parti limone E agitare Inchiostro invisibile Una parte acquatonica Due parti limone Allora Acqua tonica E questa Ok E poi Aspetta Il limone Ce l'avevo Direttamente Q E Come faccio a determinare Due parti però Ah c'è questo Qui è una parte E qua sono due parti Quindi faccio così No vabbè Mi piace troppo sta roba Bellissimo limone Aspetta Che non faccio minchiate Olle Telone Best mixologo ever E poi Richiudi tutto Datevi un secondo Che devo aver Erroneamente attivato Eccolo qua I sottotitoli Quelli Di ogni singola cosa Che diventano un po' fastidiosi Ah eccolo qua Perdonatemi A posto possiamo ritornare In partita Quindi ora mixiamo il tutto Vai 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 E Oh Direi che ha funzionato anche meglio del previsto Aspetta Qui ha detto che va finito l'inchiostro Dite che Aha Grazie 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 Allora teniamolo da parte Perché si sa mai che ci possa servire Anche per altri enigmi Quindi tipo lo posso versare qua Il gioco dice Sì Non ci sono problemi Ecco magari non beviamo Questa sostanza Che mi pare un attimino Pericolosa Tu resta lì E io casomai mi metto a mixare Qualcos'altro Ok Gli appunti dicono di fare test Per decidere la voce del robot Fermare i controlli dell'agenzia Comprare altro succo di limone Ah in effetti ecco perché ho dovuto usare il limone direttamente così Procurarsi altre penne con inchiostro non invisibile Cambiare la password da Intelligente Segreto Robot Agente Quindi Clever Covert Clever Covert Robot Agent Ma non l'hai cambiata Quindi la password è Clever Covert Robot Agent Clever Covert Robot Agent E in effetti dice un microfono Come faccio però ad inserire la chiave Sì vabbè a dire la password avete capito Allora c'è qualcosa che mi sfugge Fatemi dare un'occhiata in giro Ci sono sicuramente altri documenti Mixomatic La scelta giusta per qualsiasi agente Tre parti gin E una parte vodka Allora Uno Due E tre E poi ha detto vodka Aspetta Non ho la vodka La legna Me ne sono completamente dimenticato Che succede se la segnacca ho dentro Oh Ah La chiave La chiave La chiave La chiave Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Allora faccio c'è tua robot Direi che la chiave vado inserita lì Per E anche tanto effetto Oh abbiamo un sacco di oggetti Non è vero Wow Tu sei un sacco di oggetti Ok Questo lo posso mettere in testa Sono la tua padrona Io ti comando e ti controllo Non funziona Lo vuoi tu il cappello maggior cosa bot Via un po' Sei decisamente molto più sexy di prima E non lasciare che nessun altro ti dica altrimenti Allora abbiamo un'altra bottiglia Cosa avete fatto a sta bottiglia? Vodka instabile non agitata Ma la bottiglia stessa Non va agitata? No La bottiglia è abbastanza sicura Il contenuto non va agitato Allora Toglimi il succo di schifo Ciccio Te lo regalo Sbagliato mira Non importa E la vodka La possiamo mettere qua Quindi ora posso fare il drink Lo so Ciccio Vuoi bere anche tu? Non fare complimenti? Guarda Te lo prepara Lo zio 00 telone Cioè non è il bicchiere Adatto per un martini Ma insomma Meglio che nulla Ecco qua Ha la facciaccia tua? Lo vuoi? Non lo vuoi? Ti sta sgocciolando un po' di roba sulla testa? Tutto normale? Tutto a posto? Va bene Va bene La smetto con gli scherzi Aspetta fammi tenere da parte il bicchiere Si sa mai che dopo ci possa servire Ok C'era anche Quello robo laggiù Ok Il linguaggio del robot sta migliorando Aha Aspetta Clever covert robot agent Clever Covert Robot Agent Ok Questo dovrebbe funzionare Oh Il microfono Svi sai cosa? Sì Sì Ah Non ho acceso il microfono Giusto Giusto È a tempo? Sì mi sa di Sì sì Clever Covert Robot Agent Oh Oh Buongiorno Ok Già La ricerca di Dr. Blum Deve essere in questo computer Se puoi capire come usare Sì Te la fai semplice ciccio Allora fammi Ok Togliere sto drink Chiaramente molto avvelenato E abbiamo un Volevo solo mangiarmi un altro gamberetto Adesso mi hai fatto passare la voglia Debug mode È un'informazione abbastanza bizzarra A parte che nella vita vera Sono andato un po' indietro Ok Direi decisamente molto meglio Oh Allora Vediamo un po' Sembra che manchino delle informazioni qua sotto tuttavia Non per dire signori c'è una cosa inquietante Che cos'è quello? Non mi piace proprio per nulla Ho trovato altro limone nel frattempo Della serie è meglio abbondare Allora Dobbiamo fare il debug Prima di tutto Quindi dobbiamo Ah ma che si cavano? Ah Ho capito Aspetta 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 Metti dentro Ottimo Quindi questo va inserito qui Visto? Fatto Nah è una cavolata di sicuro Quindi se faccio così Che succede? No 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 Ti odio Oh 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 no 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 Antidoti 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 Ok dobbiamo quindi lasciare uno spazio centrale completamente vuoto Allora aspetta 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 Non sono i miei momenti in ansia Ho colpito cose nella vita vera Credo di aver disattivato la recitazione audio Allora direi che questo va qui E questo va qua E questo va qua Ma sono un genio dell'informatica Aspetta Ti prego ti prego Dammi l'antidoti Dammi l'antidoti No non questo Ad've Dove andare un po' indietro nella vita vera Perché sto urtando oggetti tipo tastiere, tavoli e chi più ne ha più ne mette Ok, a posto, ora posso continuare ad agire Allora, no, no, mi serve il documento Due parti neurotonico, una parte vodka instabile Aspetta, il coso è laggiù Ehm, anghingo Torna qua da me, il debug mode non ci serve più a nulla Via la foto di M Allora, abbiamo detto due parti tonico Veloce E una parte vodka Aspetta, c'è qualche informazione Agitare finché non sale il vapore, poi bere Il vapore? Aspetta, però la vodka è esplosiva Quanto meno in questo universo Oddio Io adesso ho paura No, aspetta un secondo, facciamo così E lo shikero a distanza Vediamo un po' Ah, buongiorno Aio, quanto devo agitare Oh, 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 oh No, 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 no Wow Direi che questo non sarebbe dovuto accadere Ok, ce la posso fare Allora, vodka e tonico 1 e tonico 2 Ok, devo shikerare, ma un po' di meno E direi sempre lontano dalla mia meravigliosa faccia Ok, vai Vai Che forpio Sì, l'osso a capo Oh Ok, mi sembra che abbia fatto la cosa giusta Sì, ho un ottimo aspetto Però lo vorrei bere in un bicchiere, scusate Sono un ometto di un certo livello E spessore culturale E tutte cose Oh A posto A posto A posto A posto A posto Tutto bene, tutto bene, tutto bene Ok, a posto Eh, sono cose che capitano Aspetta un attimo C'è qualcosa qua sotto Ehm Vediamo un po' Perché c'è uno spazietto libero Questa cosa non mi piace Aha Mi piace quello che vedo Aspetta Eni, com'è che c'ho i pruriti nella vita vera? Allora Questo non ci serve più Non sono ancora morto Il che non è una cosa da poco E non penso che sia più una corsa contro il tempo Ehm Questo va inserito qui Ehm Togliamo questi perché allo stato attuale non ci servono Questo va inserito qua Cosa ho trovato? Ah, mu salve Uh Stai calmo, mi hai fatto cagare in mano Devo aver toccato il telecomando per errore Oh Ah, monetina numero uno Ehm Penso che vada nel nostro cassetto In parte il cassetto, insomma, vita vera Tutte cose Ok, lasciala lì per adesso Pfff Se muoio devo rifare tutto da capo Sta cosa non mi piace Allora, ritornando a noi Dobbiamo accedere al drive esterno Drive esterno Perfetto Quindi C'è qualcosa che non va Adesso ho visto Inchiostro blu in esaurimento Eh, lo so, ciccio Eh, lo so, ciccio Eh, o erano altri tempi Aspetta un attimo Vediamo un po' se Basta fare così Oh, mio Dio Quando l'ho comprato il gioco stamattina Ancora non ci credevo Che mi sarei divertito così tanto Se serie non vanno mai bene sul canale Ma, vabbè, non importa Allora, dobbiamo mettere Questo Così Perfetto Questo lo dobbiamo No, questo lo dobbiamo togliere E probabilmente inserire qua sotto L'altro invece va messo qua sopra Ottimo E Cos'è che manca? Oh, c'è un problema Allora, questo non va qui Perché questo va qua E quindi Questo Va qua su Oh Meno male Sì, certo, certo Mi sembra troppo semplice Il floppone Salve Sono molto vivo Salve Agente furbo Ma anche Aaron che no No, no, no È lei il cattivo ciccio L'agente non morì dal poesino come abbiamo planato Che faccio adesso? Oh, dottoressa Salve Questo è il legendario Agente Fenix È considerato diventato il più grande avversario Questa è un'opportunità Per andare a fuori la discazione e la trainazione che abbiamo planato E testare i vostri capaci di combattimento È più facile per riempire gli agenti umani con robot Se gli agenti umani sono morti Vedi cosa fare La vodka, la vodka, la vodka, la vodka, la vodka È esplosiva La vodka è esplosiva Oh, che faccio? Che faccio? Ahah Che gentile che sei Oh 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 oh, laserone Laserone Aspetta Ok, devo attaccarlo Che miseria? Vai 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 Splodidi, splodidi di parte Flodidi di parte Dai Shaker Ok Fregato la grande Cosa è quello? Inizio del robot È questo? Ah Vedo che hai scoperto le migliorazioni che ho fatto per i miei robot E all'altro era di dare Zor accesso a quella ricerca di kinesium che tu veniva qui per proteggere È certo Zor ha ricevuto i miei ricercati e io ho di kinesium per i miei robot E quando sei morto Tutti vedrai come superiore i miei robot sono per i miei agenti emozionati emozionali Ciao 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 Dottor Prism non è messo E lei sta lavorando con Zor? Eh Penso che ho bisogno un momento Vieni al base Che figata Questo coso l'avete messo nel mio cranio Ok non siamo morti Di solito la prima missione ci schiazzo Oh un obiettivo secondario l'ho completato peraltro La mia mente dietro la telekinesia E lavorando con Zor La mia mente dietro... Tutta cosa viva che abbiamo mai pensato nell'agentia Per dire che siamo in problemà E' come dire che mi piace le tue di kinesium Non è un'ottima stazione E' sembra che questo non sarà una scoperta nel parco dopo tutto Agente Con Dr Prism e Zor insieme Chi sa cosa potrebbero accogliere? E non so cosa dirle signore Vediamo un po' cosa c'è qua dentro Prossima missione Epa Ma no I macarone dell'agenzia Ma vi prendete in giro Ma sono la cosa più bella della vita Cioè non sono un fan dei macaron per dover di cronaca No voi non avete idea di quanto siano belli in VR e sti cosi E non vedo l'ora di testare il Quest 3 ragazzi Che purtroppo mi dovrò comprare Perché non mi hanno sottattato questa volta Ma vabbè sono cose che ca... Ci sono i biscottini Aspetta Posso fare la gente molto ma molto british Ah no Potevate dare una pulita alle tazzine Ma che schifo Porca miseria Beh almeno qualcuno mi ha fatto il tè Ottimo Grazie molto gentile Ah ambrogio Avrei un leggero longorino No in quel caso ci sarebbero i ferrero rocher Perché non entra? Eh eh Ma è una truffa Vabbè me lo magno così Amen Va bene lo stesso E Oh 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 Non va che ci sia un obiettivo secondario con il tè Ah io non ricordo bene il tè oggi Eh che cocchio ma sto tè È tutta una truffa sto mondo È tutta una Straccocchio di truffa Oh aspetta 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 No 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 Salva il tè salva il mondo Salva la regina Aspetta Ok richiudo Richiudo Non ci sono niente Non ci sono niente Nessuno ha visto nulla E niente Questi me li porto via io La dottoressa Ah Roxanna Prism Responsabile ricerca e sviluppo Quindi questo è il mio capo Quello che mi parla in continuazione Reginald Crane Coordinatore supporto agenti Questa è la sua faccia? Neanche lo sapevo Ah questa? Ma lo devo tipo mettere qua? Perché la forma non è questa Aspettate un attimo Non mi dite che invece va laggiù? Oh oh Cose segrete signori Quella cassaforte si aprirà Se troviamo tutti gli Gli oggetti segreti Ah adesso il bot È direttamente lì Perfetto Con molto pian pianino Questa stanza si riempirà di oggetti Soprattutto quando completiamo Le missioni secondarie Sì stia zitto Record a battere Dovrei completare il livello In 2 minuti e 30 secondi Oggetti nascosti Trofeo robot e medaglia fantasma E li abbiamo presi E queste invece sono le missioni extra Offri a maggior robot Un drink da gente E quella l'abbiamo completata Non utilizzare la configurazione Del computer a lampadina singola Di aprism che gli agenti Sono migliori dei robot Porca miseria Sì sarebbero obiettivi Abbastanza difficili Ma casomai ci torniamo in futuro Allora ritornando a noi Io mi comincio anche la seconda missione Perché sono veramente curioso Apriti sesamo Uh cosa abbiamo trovato? L'orologio della dottoressa Ma è quello che contiene il cristallo In effetti non ne sono Prettamente sicuro Ok al diavolo Vediamo dove mi mandano lì Bello questa volta L'avevo capito La casa di Rocco Abbiamo abbandonato Abbiamo abbandonato i nostri kinesium In Pennsylvania Quando il Dr. Prism L'agency La locazione L'avete classificata Anche da lei Ma Zor Deve aver trovato L'avete arrivato In queste kinesium E vedete se ci sono evidenze Che Zor e Dr. Prism Hanno stato lì Tutto qua Sembra una missione Abbastanza semplice Ah va bene Vediamo di iniziare La nuova missione In fondo alla terra Oh che culo Dove cocchio Mi avete spedito Well Questa minina Si sembra meno abbandonata Che ci ho anticipato Zor e Dr. Prism Deve essere Abbiamo avuto questo kinesium Qui Provate ad avere La macchina online Possiamo poter imparare Più di dove Questo kinesium Sto Dobbiamo inserire Un codice qui Oh mio dio C'è un fogliettino Mezzo appiccicato Ma questo pulsante Non funziona E queste leve Sono bloccate Probabilmente Finchè non inseriamo Il codice Da quella la posso girare Oh Possiamo far scendere Quello Perfetto E se tiro la leva Ye ye Oh Eh grazie al cocchio Dobbiamo bloccarlo In qualche modo Allo stato attuale Si tratta di un tubo Di azoto liquido E Liquido bollente Magma E beh certo Chi non ha del magma Che corre lungo I tubi La tua posizione Stabilizzazione Trivellazione Spedizione E il nucleo Inagibile Credo che sia Quella zona laggiù Ah un trivellato Di brutto Lassopra Va bene Aspetta Aspetta Sì Giro questi Ah vedete Cambia la direzione Di eventuali carrelli Ok Qua correranno Dei carrelli A sto punto C'è una zona Lì da aprire Assolutamente Allora Vediamo un po' Se troviamo qualcosa Ah posso aprire Anche gli armadietti Oh ma buongiorno Olè Ho trovato un altro oggetto Vai Beh ragazzi Anche la sicurezza È importante Posso tornare Su capo Devo lavorare Per 32 ore Oh speriamo Che almeno Il caffè sia buono Scusate un seconda Perché col tè Non sono stato Molto fortunato Il caffè Quello americano Uber lungo Che mi fa uno schifo Che voi Non ci avete idea Vediamo un po' Com'è Ma è una brodaglia Ma che schifo Vabbè senti Lascia qua Dopo che vedrò Se c'è di meglio Cosa c'è scritto qua Sinistro bot È stato qui Abbiamo anche Una lettera Mio tesoro So che adoro il caffè Quindi spero che ti piaccia La nuova miscela Che ti ho inviato Mi auguro che basti Per darti l'energia necessaria Per tutti i tuoi doveri Di supervisore Inoltre Ricordati di lavarti le mani Dopo aver mangiato I calzoni Ho trovato le tue improntine Unte Per tutta la casa Quindi è meglio Che non le lasci Anche sulla postazione di lavoro Comunque Mi manchi tantissimo E non vedo l'ora Di passare del tempo Con te Durante le prossime ferie Con amore Chandler C più Oh aspetta un secondo Caffè spostati Direi che questo va qua CL più RS Ah È un indizio Devo capire cosa mi serva Ma il calzone dov'è Mi ha lasciato un calzone Ma guardalo È commestibile Questa roba Non mi va neanche male Era tipo qua Due settimane Ma C'era un po' di roba Che si muoveva all'interno Facciamo finta di nulla Che è meglio Ho trovato l'aeroplanino Aspetta aspetta Dimmi che lo posso tipo Lanciare Tipo Weee Eh ma che aeroplanino Di merda Vabbè C'è un finta di nulla Aspetta che c'è qualcosa Lì sopra abbiamo un libro FM 32 12 Annoiarsi e annoiare Esercizi mentali Lettura molto ma molto noiosa Già di per sé Ok vediamo un po' Nickel Ferro HS2 Nota da sterilizzare O kinesio Da utilizzare Modulo Zorx Della trivella Scheda di riferimento Del supervisore Alla trivellazione Che sono io in effetti Avvicinanze Oddio mio Ah ok Dobbiamo quindi trivellare Ma io non vedo trivelle Però lì è il punto di trivellazione Dobbiamo probabilmente raccogliere del kinesio In qualche modo Ci servirà forse Un campioncino Questa c'è chiede In questa sezione sono trascorsi 12 giorni Rip Signor Diesel Dall'ultimo incidente con il kinesio Non è che si tratti poi di così tanto tempo Abbiamo anche una mappa della zona Qui c'è il nucleo Sito di trivellazione Gamma Epsilon Z Quindi questo è un lettore di impronte Magari noi inseriamo la mia Perché chiaramente la mia non è accettata Non mi sembra la peggiore delle idee C L C L R S C L R S Enter Sì L'impronta digitale Ma chi è che la lasciate lì sotto Sì ma temore Sì ma tempo fa Non si preoccupare a capo Lascio faccio anche il palloncino E magari Oh mio dio Ci sono rimasto Non so se da voi si è visto ma mi ha fatto il palloncino mentre lo dicevo Ok Cosa posso fare? Tipo appiccicare dagli oggetti? No non si appiccica Sarebbe stata una cosa veramente interessante se si fosse appiccicata Ok Impronta 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 Ah sulla tazza Sulla tazza ci sembra un impronta Eh Visto cosa vi ho detto? Vai di improntina Scansione 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 il palloncino è una buona idea Ma abbiamo bisogno grandi idee Hai una di queste idee No non può essere così ovvio Non può essere così ovvio Ha funzionato Aspetta Aspetta voglio solo la gomma da mastica Genio Sono uno straccocchio di genio Vai Dimmi che funziona Ti prego ti prego ti prego ti prego ti prego ti prego Yeeey Cosa ho fatto? Oh Qualcuno vuole una trivella Non fate complimenti Oh Destrobot Aspetta come Dr. Prism Ha un robot in mente Noi ancora non vediamo dove questo kinesium sta andando Guardate questo discazio E vedete se puoi trovare Ok Ho il cavolo elmetto Dovrebbero scambiarmi per il supervisore Oh no Salve Come va? Tutto bene? Vacanza bellissima Ciccio Spavento Ma siete delle merde Ci sono più di uno Questo è almeno double dei robot che abbiamo avuto l'ultima volta Già Soprattutto possiamo trovare dove Dr. Prism sta construendo questi robot Tu dovresti spiegare operando questa trivella Te la fai semplice Ok La trivella è scesa Soprattutto Ricordi quando tu dicevi che non potessi raccontare perché le nostre voce erano così simili? E' vero Non era la parola Era Inoltre Siamo arrivati con un'idea Soprattutto 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 Non fa una piega come ragionamento Sicuramente là sopra c'è qualcosa di nascosto se conosco abbastanza bene questi videogiochi Però non mi sembra di riuscire ad afferrare nulla Ok Cosma come funziona Oh Ok Ok Questo fa ruotare tutta l'intera struttura Ah L'ho visto L'ho visto L'ho visto L'ho visto Aspetta Vieni da papino E abbiamo il numero due figlioli Abbiamo il numero due Magari non copriamo il pulsante perché prima o poi me ne dovrò andare Sposta Oh Aspetta Devo guardare lo schermo Allora Così cosa vuol dire Aspettate Aspettate Questo è ferro Quando è verticale è nickel Non devo scavare quando ci sono quelle ondine Perché dice che è tipo pericoloso Ok Quindi devo andare un po' attentoni Finché il segnale non è buono Posso trivallare il robot L'ho visto per un secondo L'ho visto per un secondo Questo è quel buono Davvero Wow Grazie Un aiuto veramente incredibile Siamo giusti Siamo molto molto giusti Quindi faccio così Spostati Ciccio potrebbe essere pericoloso Ti prego Ti prego Ti prego Non ho scavato Non ho scavato male Non vedo nulla Ok Signacalo nel carrello Quello lo prendo io Ha cambiato anche forma nel frattempo Ok Oh Ok 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 Ho capito 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 C'è Azzotto liquido Lì Ah quindi Questo va calato Sul carrello Aspetta Però il tubo Non l'abbiamo fissato Allora Non devo più scavare Quindi siamo a posto Oh mio dio Come ho fatto a non vederla Prima Ma è tipo gigantesca Aspettate Dopo come faccio La signacoli Perfetto E poi la Giriamo così Facciamo un test Perché non vorrei rimanere fregato Che poi mi esplodono le cose in faccia Ecco qui Quindi faccio così E poi ecco là Questa volta non è saltato Ottimo Allora ritirala su Altrimenti il carrello Non può arrivare Ok Il carrello è là sotto Quindi Deve andare in questa direzione Pertanto questo va girato E dovrebbe arrivare così Ok facciamo una prova Non ne ho la più palida idea Sì 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 Guarda l'ho fatto Ecco qua Cosa vuoi Più dalla vita Sono uno scienziato nato Praticamente L'involvimento dell'agente Phoenix A casa Necessita Produzione Aggiungere Un kinesium online Immediatamente Qualcuno che hai Passa in la fattoria Anche Tu sei meraviglioso Sei sicuro Ah ma che gentile La dottoressa Ah ma che è la migliore Ok Tu hai ascoltato il servizio Sendete questo stabilizzato kinesium A me In il contenitore Sendete Sendete Allora Sendete Allora Vediamo un po Ti prego Ti prego Ti prego E olè Ok Fin qua Tutto corretto Ciao 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 Ma sei scemo Ma sei scemo Ma sei scemo Eh oh ciccio mi dispiace Ah vuoi che streggo Altro kinesio Ah ah Proviamo andare in direzione opposta Quindi tipo di qui Vediamo un po Spostandoci Da quest'altro lato Ti prego Ti prego Ti prego No Nulla di che Aspetta un attimo Dobbiamo anche pensare Come distruggere il tutto Dobbiamo mandare Ovviamente Un carrello Verso il nucleo E' abbastanza ovvio Così farà crollare Tutta la miniera Oh La lava Se non lo stabilizziamo Diventerà esplosivo Dove 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 vuoi Aspetta Aspetta Allora Dobbiamo Ristaccare Questo Spadonchete Perfetto E questo me lo Sniacqua Ottimo Questo lo dobbiamo Allentare Perché E' già bloccato Quindi Dall'altra parte Perfetto Quindi questo Me lo blocchi Qui Qualcuno vuole un po' di lava Vuoi un po' di lava Ciccio Non fare complimenti Ok dobbiamo fare la prova In nome della scienza Butta via il caffè di mia moglie Che tanto fa schifo al cocchio Perfetto Mettici dentro un po' di lava No Dai Era l'idea della vita Mi sento profondamente deluso Sappiatelo Ehi Ciccio Vuoi berti un po' di caffè Non fare complimenti Vediamo un po' se lo prende No non lo prende Oh wow Vuoi l'elmetto da supervisore In teoria se gli cavo il suo Ma no che non accade Ecco qua Cucati mio Ok A posto Bravo bravo Best agent ever Fammi togliere il caschetto Che è lo stato attuale Mi può essere utile Nel caso mi sparassero Onestamente Allora Fatemi mettere Questo Qui Così Ottimo Ora dobbiamo Ribloccare Il tutto Aspettate che non faccio Cagate Perché Sapete molto bene Che ho un'arte Per fare Cagate Ottimo L'ho trovato L'ho trovato L'ho trovato Oh mio dio Era dalla parte opposta Rispetto a dove cercavo Cocati tutto al chinesio Ciccio te lo meriti E non consumarmi tutto al caffè Ormai mi ci sono affezionato E vabbè Dai avanti Ma dai Ah il carrello è là sopra Allora aspettate Dobbiamo riportarlo Lì da lui Quindi Basta Che clicco il pulsante Dovrebbe Potevo mandarlo indietro Ci ho pensato dopo Potevo farglielo arrivare Tipo così Perché adesso arriverà qui E Se riclicco No ho sbagliato Porca la miseria A sto povero carrello Sto veramente facendo passare Un brutto quarto d'ora Dovevo solo spostare Lo scambio lì Scusa eh Forti pazienta Ma non rompere i maroni Ok così dovrebbe Ritornare direttamente da me Tanto lo devo fare esplodere Allora se lo dobbiamo Fare esplodere Questo deve andare In quella direzione E Aspetta E questo deve essere spostato In quest'altra direzione Così arriva direttamente Lassù Allora si sta Sto riscaldando In effetti In effetti Che non va giù Vabbè D'altra parte Ok ok Qualche problema tecnico Tutto molto interessante Oddio Oddio Fallo partire Fallo partire Fallo partire Wow Quello era messo male Ma no Ma no È corretto no Dai sì È corretto È corretto È corretto Vai 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 Oh porca miseria Non è che mi manco coinvolto Ok Sono vivo per miracolo Eh più o meno Eh ok Mi pare un'ottima idea Salve dottoressa Salve dottoressa Eh no È stato un uccidente È stato un uccidente Aspetta Acqua miseria Ah 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 Ma non rompere i maroni Tritato alla grande Wow Ah 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 Il mio avvento sia un'esercizio. Tutti gli uomo non ortodoxi sono davvero effettivi. Adesso lo avrei direttamente. È troppo male che la linea si falla e si sorprende il suo sguardo. L'energia è iniziato. L'energia è iniziato. Sì, possiamo aggiungere un grande controllo di controllo di più estremamente in liste di cose che non avevo mai risponuto fino ad cui metto tu. Un momento con noi. Vi vediamoci in giro. Sembra che i prismi di robot hanno nuovamente capacità che riguardano il tuo agente. E mi dico che lei continuerà a migliorare fino a che te possa finalmente uccidere. Parlando di tempo, la merenda che hai esperienzaato mi ricorda di qualcosa. Ah, guarderò e tornare a te. Non la trivella, che è quello che ho fatto. Evita di stringere i tubi. La gomma da massicare, la gomma da massicare, ma certo. Ando in modo, signori, direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Direi che in tre episodi finiremo le nostre avventure molto, ma molto spionistiche. Ma to' quanto mi sto divertendo, voi non ci avete idea. Nei commenti qua sotto ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti non vi offro la merenda. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao, ciao!